Sono in Lega dal 2014 e sono dal 2016 coordinatore cittadino di questo partito, quindi era normale che io mi candidassi in questa tornata elettorale. Prima non avevo fatto politica, sinceramente il motivo principale, a parte il fatto della condivisione del tipo di politica della Lega di Salvini, è stato sicuramente contrastare la politica di De Magistris sulla città. Dobbiamo cambiare, dobbiamo dare una svolta, dobbiamo migliorare, non siamo mai caduti così in basso, non possiamo continuare così. Se è eletta qual è il suo impegno o meno quanto lei vorrebbe fare in Consiglio regionale? Allora per me l'aspetto più importante è quello di valorizzare la Campania. La Campania secondo me è una delle regioni più belle e più ricche di tutta Italia. Abbiamo di tutto tra l'agroalimentare, il turismo, la cultura, abbiamo necessità di sviluppare non il Made in Italy ma il Made in Campania, incentivare le imprese ed impedire che i giovani lasciano questa bellissima regione e vadano al nord o in altri paesi dell'Europa per cercare lavoro. Ma penso che sia sotto gli occhi di tutti che non funziona niente, infrastrutture, trasporti, sanità, ambiente, non c'è nulla che funzioni. Penso che De Luca avrebbe potuto fare, aveva anche la possibilità di farlo quanto a fondi europei, sappiamo benissimo che i fondi europei c'erano e non li ha spesi. oggi ha deciso di finanziare Eav con i fondi ricevuti nel 2016 e ci troviamo con un sistema di trasporti praticamente non funzionante. Lei sta seguendo, ha seguito Salvini in questi tre giorni in Campania, che bilancio tira? Il bilancio è che Salvini ha un grande consenso, l'abbiamo visto ieri sera anche a Sapri, l'abbiamo visto a Napoli, ha un grande consenso e secondo me continua a crescere. Non è più vero che la Lega non è ben vista, abbiamo tanti simpatizzanti sia nel partito, tra l'altro i risultati li possiamo valutare anche con l'Europea del 2019, dove a fronte della quantità delle preferenze avute, noi siamo passati dalle parlamentari al 2018, dove abbiamo preso a Napoli una percentuale del 2,67, non ricordo precisamente, al 12 dell'Europea, con molti voti solo di lista. Quindi abbiamo avuto migliaia e migliaia di voti, vuol dire che Salvini ha tanti simpatizzanti e che porteremo un buon risultato anche alle regionali.